E continuiamo adesso il nostro percorso verso le amministrative alcamesi di Primavera 2021. Abbiamo incontrato il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Alessandro Fundarò, per noi il direttore di Videosicilia Riccardo Galacchioti. Il candidato non è stato ancora individuato, naturalmente si parte da un programma e poi si decide eventualmente se ci sono delle liste civiche a cui allargare. Noi di Fratelli d'Italia siamo consapevoli che l'alleanza, intanto quella naturale, è quella del centro-destra unito. Non è una priorità allargare o meno la coalizione, la nostra priorità è dare un'alternativa valida alla città di Alcamo. Se ci sono delle liste civiche in momenti successivi che vogliono sposare, che condividono il nostro programma, c'è il collante che unisce tutti i partiti alla coalizione, non deve essere il combattere un nemico comune. Dopo i vari incontri dal centro-destra siamo tutti sulla stessa linea di pensiero e d'accordi sul 99% dei punti. Se qualcuno si dovesse tirare indietro ne trarremo le conseguenze. Perché all'Europa siamo stati il primo partito in provincia di Trama, nei Fratelli d'Italia ad Alcamo, ha preso più voti rispetto alle altre città. La coalizione comunale è la nostra prima esperienza, qualsiasi risultato è un punto di partenza. L'amministrazione guidata dal sindaco Surdi, le aspettative che tutti gli elettori avevano erano ben diverse dalla reale situazione. Si aspettavano quantomeno la realizzazione di una buona parte del programma elettorale, invece se si va a leggere il programma elettorale si ci rende conto che è stato fatto pochissimo. Alcamo era, ben detto, la città più grillina d'Italia. Negli ultimi sette mesi sono andati via un deputato regionale, un deputato nazionale, un deputato europarlamentare. È stato promesso troppo da gente che aveva pochissima esperienza e gettava veramente fango sulla politica, sul sistema politico. E ora si sono dimostrati però parte di quel sistema politico. Il sindaco Surdi apre a tutte le forze sane della città. Lo interpreto come un'operazione di palazzo finalizzata a mantenere la poltrona. Probabilmente pensa di ricandidarsi, ma con quell'intervista il messaggio che è chiaro è che l'amministrazione 5 Stelle è stato un fallimento. In quanto se lui ritiene che ha fatto bene in questi ultimi cinque anni, perché allargare altri movimenti o partiti? Sarà veramente l'elettore a valutare questo? Il Movimento 5 Stelle ha rinnegato se stesso, il sindaco Surdi sta rinnegando se stesso. È quasi un cambio di casacca come ideologia. Un movimento che cinque anni fa si era professato di essere antisistema contro il PD e dopo quattro anni e mezzo apre al PD, alle forze di sinistra, mi fa capire che sia una totale incoerenza in termini. Come ha detto lei, ogni competizione elettorale sia a sé. Abbiamo una bozza di lista naturalmente in questo momento e una domanda a cui non vorrei rispondere, perché fa parte della privacy interna a ciascun partito. Logicamente le dico con estrema certezza che presenteremo la nostra lista. Risolvere la questione dei rifiuti. Non si può addossare la colpa sempre a terze persone. In un primo momento la colpa dei rifiuti, della situazione indecorosa in cui versiamo, era delle amministrazioni precedenti. Poi è diventata la Regione. Poi la Regione, i paesi limitrofi non sono nelle nostre condizioni, quindi la Regione c'entra limitatamente, è stato addossato ai cittadini che sono incivili e a questo punto non ci siamo più. Puntare tanto sul turismo, Alcomo Marina, che è troppo spesso messa da parte da noi cittadini stessi, però è accettata, è richiesta dal turismo straniero, la burocrazia. Bisogna cercare di velocizzare la burocrazia all'interno del Comune di Alc. Facendo un'analisi non da coordinatore di Fratelli d'Italia, ma bensì da elettore, vedo un Movimento 5 Stelle disorientato. Una sinistra che fino a poco tempo fa faceva aspramente dall'opposizione in Consiglio Comunale, però a quanto pare con degli accordi che ci sono stati negli ultimi tempi non fa neanche più opposizione. Forza Italia esiste, è un partito con cui dialoghiamo e loro stanno preparando pure la lista. Non temiamo assolutamente nessuno, perché non si deve vincere per forza. Agli Alcamesi cosa dire? Io spero di dare agli Alcamesi, non vogliamo nulla noi di Fratelli d'Italia agli Alcamesi. La cosa peggiore che possiamo dare agli Alcamesi è la mancanza di un alternativo. Il centro-destra unito è una cosa che ad Alcamesi forse non è mai avvenuta, perché almeno da 40 anni a questa parte non abbiamo mai governato e ci siamo sempre presentati divisi. Le domande più belle queste sono. Grazie. Grazie. Grazie.